Buongiorno e benvenuti a questo incontro. Oggi parleremo di SETI, progetto che significa Search for Extraterrestrial Intelligence, progetto nato all'inizio degli anni Sessanta ad opera di uno scienziato americano, Frank Drake. Lo scopo del progetto è quello di cercare di trovare dei segnali provenienti da altri pianeti che possano far pensare che vi sia un'intelligenza, cioè in mezzo al caos di tutti i segnali che provengono da varie parti cercare un segnale ordinato, cioè che indichi una volontà di parlare, una volontà di mettersi in contatto con noi. Chiaramente la cosa è molto difficile perché noi siamo pieni di segnali, disturbi, eccetera. Quindi in un incontro che ho avuto il piacere di avere con Drake, Drake diceva che la cosa migliore sarebbe poter costruire un ragiotelescopio sulla faccia nascosta della Luna, che è l'unico punto dell'universo da cui non si vede la Terra e quindi sarebbe schermato da tutti i segnali. Il progetto consiste in questo, cioè puntare i radiotelescopi in vari punti del cielo e ricevere dei segnali e vedere se tra questo caos ce n'è uno ordinato. Quindi in quell'epoca, quando è nato nel 1960, credo, il progetto, non si sapevano ancora, non si conoscevano ancora, non si erano ancora individuati i pianeti extrasolari, però si era sicuri che comunque ci fossero questi pianeti. E quindi l'idea di Drake è quella, cerchiamo con opportune frequenze di puntare i radiotelescopi verso qualche stella e vedere se riceviamo qualche segnale. La cosa è andata molto avanti, è stata prima finanziata dalla NASA, poi è andata avanti, la NASA non ha più finanziato, però va avanti con fondi privati, perché la cosa è molto interessante. Oggi a parlarcene saranno due persone, due scienziati che sono associati al progetto SETI e in particolare abbiamo l'ingegner Steglio Montebugnoli, laureato in ingegneria elettronica e nucleare presso l'Università di Bologna, dirigente tecnologo e per 36 anni responsabile della gestione e sviluppo tecnologico della stazione radioastronomica di medicina dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e del retroscopio Croce del Nord. Dal 2003 al 2012 ha collaborato all'ASI, all'Agenzia Spaziale Italiana e anche a quella europea, nell'abito di attività internazionali di osservazioni radar per la catalogazione dei detriti orbitanti intorno al nostro pianeta. Ha partecipato con lo staff di medicina al primo esperimento riuscito di radar intercontinentale con l'antenna di Goldstone della NASA in California, nell'osservazione di un asteroide in orbita prossimo alla Terra, grazie all'impiego di un velocissimo spettrometro che lui stesso ha progettato. Per questo risultato l'International Astronomical Union ha attribuito il suo cognome ad un asteroide della fascia principale orbitante tra Marte e Giove. Con uno strumento di sua progettazione collegato alla parabola dei 32 metri di medicina, ha rivelato unico al mondo, con un gruppo ristretto di ricerca, la presenza di acqua nel punto di impatto di uno dei frammenti della cometa SL9 su Giove nel luglio del 1994, contribuendo all'avanzamento della ricerca nel campo della bioastronomia. È membro di SETI e anche dell'Accademia Internazionale di Astrofisica di Parigi. L'altro relatore è Paolo Musso, professore di filosofia teoretica presso l'Università dell'Insuvia di Varese, dove insegna fondamenti della modernità e scienza e fantascienza nei media e nella letteratura. Unico corso universitario italiano dedicato alla fantascienza. è una cosa molto importante la fantascienza, mi congratulo con Paolo. È stata per diversi anni docente di filosofia e della scienza presso l'Università dell'Insuvia e anche visita in professo presso l'Università Pontificia e Santa Croce di Roma. Presso anche la Facoltà Teologica di Milano e anche l'Università di Lima in Perù. È membro di SETI dal 2004 e nel 2008 è stato tra i principali protagonisti di Calling AT, un documentario sul SETI realizzato dal registro olandese Prospero de Ross. Ha vinto il secondo premio in un concorso indetto dalla Oxford University tra tutti i docenti dell'America Latina. Nel 2017 è stato fellow della stessa Oxford University in America Latina, dirigendo il progetto La Vida e l'Universo, in collaborazione con la stessa Ux e la Unife. Ha pubblicato una settantina di articoli e cinque libri, l'ultimo dei quali La scienza e l'idea di ragione gli avalse nel 2015 la nomina a membro della prestigiosa European Academy of Science and Arts. Allora a questo punto diamo la parola all'ingegner Steglio Montebugnoli. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Sindoni della introduzione. Io vi parlerò in questi 20 minuti che ho a disposizione del programma SETI. Senza entrare in quello che è lo sterminato campo della bioastronomia, possiamo dire che gli elementi di cui l'uomo è formato e anche il mondo che gli sta intorno si crearono molto lontano sia nel tempo, migliaia di anni fa, che nello spazio, c'è migliaia di anni luce, sulle stelle. Quindi noi possiamo dire di essere costituiti di materiale stellare. Esiste una grande varietà di molecole che giocano ruoli importanti per la chimica della nostra vita, ma non costituiscono la totalità delle molecole che si sono scoperte nell'universo. Ovviamente quello che ci viene da pensare è che le stesse reazioni chimiche avvenute sulla Terra possono essersi ovviamente verificate in chissà quanti altri mondi. In realtà di questi mondi nuovi, quindi dei pianeti extrasolari, ad oggi ce ne sono già scoperti sui 3.500. anzi, questo era il numeretto di inizio anno, oggi magari se ne saranno già aggiunti qualche centinaio. Alcuni di questi nuovi esofianeti assomigliano alla nostra Terra, come ad esempio c'è Trappist-1, che è 40 anni luce, che è per 452, che ha 1.400 anni luce. In campo radio, con la spettroscopia, si sono rivelate nello spazio molecole molto complesse e anche molto importanti per la chimica della nostra vita. Qui io vi porto un esempio di spettroscopia effettuata nel campo delle alte microonde, fino a 100 gigahertz, in cui si vedono le segnature, le righe, di molti elementi chimici. Sono all'interno della galassia M82, che è a 12 milioni di anni, nella considerazione dell'orsa maggiore. Oggi, dopo queste premesse, possiamo veramente porci la domanda, siamo soli nell'universo. Il programma SETI, che è l'acronimo di SETI, per ex-Terrestri dell'Intellida, cerca nello spazio delle possibili tracce elettromagnetiche. Queste possibili tracce elettromagnetiche sono onde radio e dei segnali ottici. In realtà, l'aspetto elettromagnetico è formato da tante bande. La banda radio e la banda ottica sono quelle più papabili per il semplice motivo che attraversano l'atmosfera, quindi con radiotelescopi a terra o telescopi a terra si possono, ovviamente telescopi ottici, si possono cercare queste segnature, questi segnali elettromagnetici. Ecco, le attuali osservazioni SETI si basano totalmente sull'ipotesi che se ET vuole farsi sentire ci trasmetta un segnale radio monocromatico. Perché monocromatico? Perché è facilmente distinguibile dai segnali radio di origine naturale che ci arrivano tutti i giorni sulle antenne dei radiotelescopi. O perlomeno noi faremmo così, se volessimo segnalare la nostra presenza, trasmetteremmo ad esempio nell'intorno della frequenza di emissioni dell'idrogeno neutro, 1420 MHz, noi trasmetteremmo un segnale monocromatico e così se qualcuno guarda l'idrogeno nella nostra direzione vedrebbe questa segnatura. Nel nostro paese questa ricerca viene portata avanti espressamente in campo radio, quindi sfruttando le grandi aree collettrici dei radiotelescopi. Ma è probabile che a tempi brevi parta all'INAF anche qualche programma di ricerca di raggi laser a impulsi appunto per il seti ottico. Ecco, questi sono gli strumenti dell'INAF, questi che vi faccio vedere. è la grande croce del nord, di cui io sono stato responsabile per 38 anni, è una delle più grandi aree collettrici a livello europeo. Poi abbiamo, cioè INAF ha a disposizione due parabole di 32 metri, quella a sinistra questa è la parabola di 32 metri di medicina e l'altra questa è la gemella di Noto in Sicilia. Ecco, questo invece è il fiore all'occhiello dell'INAF, è una parabola da 64 metri con specchio attivo che permette di effettuare osservazioni fino a 100 gigahertz. Ed è situata a San Basilio, che è in provincia di Cagliari. Dunque, voi vi chiederete ma quanto costa il seti? Nel nostro paese costa veramente poco, quasi zero. C'è per il semplice motivo che le apparecchiature che effettuano l'elaborazione dei dati operano in parallelo alle osservazioni in corso. Quindi noi possiamo osservare in parallelo alle osservazioni dell'astronomo di quel momento a costo veramente basso per tutto l'anno e soprattutto H24. Il sistema funziona più o meno così. Allora, i segnali arrivano dall'antenna, vanno sia all'analisi dati per la radioastronomia ma anche al sistema che cerca segnali seti. Poi si crea anche un database per le interferenze a radio che costituiscono un grande problema per la radioastronomia come l'infinamento ottico è un grande problema per i telescopi ottici. Ecco, i sistemi di analisi dati, faccio una rapidissima carrellata, sono dei grandi analizzatori di spettro, questo io lo progettai negli anni 90 e mi permise di rivelare la molecola dell'acqua sull'alta atmosfera di Giove per effetto dello scontro di frammenti della cometa su Michael Levy e anche di un isotopo del carbonio sul piano galattico ma questo facciamo stare. Ecco, questo invece è il sistema Serendip che ci è stato dato dall'università di Berkeley in California e che abbiamo usato per osservazioni dal 1998 fino al 2008 e tra pochi mesi riniteremo le osservazioni con un altro sistema. Ecco, abbiamo anche effettuato test di sensibilità del sistema antenna ricevitore elaborazione dati. Qui giusto per pura curiosità abbiamo guardato il Voyager alcuni anni fa, alcuni nel 2008 che era già fuori dal sistema solare e abbiamo visto il debolissimo segnale della portante radio del trasmettitorino che aveva a bordo dico trasmettitorino perché a pochi watt pare meno di 10 watt con il Serendip ecco, abbiamo ricevuto un unico segnale molto sospetto nel 2006 in quanto questo è un segnale monocromatico vedete, i segnali monocromatici che sono interferenze terrestri siccome qui c'è la frequenza e qui c'è il tempo ci costituiscono una perfetta linea verticale perché non si spostano in frequenza nel tempo mentre questo vedete ha uno simbolamento Doppler verso il rosso poi si ferma poi c'è uno simbolamento Doppler verso l'alto quindi il viola e poi non c'è più simbolamento Doppler quindi era fermo purtroppo non è mai stato cioè non è stato ritenuto malido perché non c'è stata la conferma non l'abbiamo più visto purtroppo cioè perché era veramente possedeva tutte le caratteristiche del segnale monocromatico shiftato in frequenza come noi cerchiamo mentre nel secondo caso quindi ET non trasmette nulla di intenzionale ma usa la radio come facciamo noi per appunto le comunicazioni la televisione e insomma quant'altro in questo caso l'analisi di spetto quindi i grandi analizzatori di spetto non servono a nulla stiamo mettendo a punto forse Paolo ci farà un breve accenno una trasformata che si chiama la caruna leve trasforma magari se qualcuno è interessato dopo i nostri due interventi può fare domande è una trasformata matematica molto potente nel senso che decodifica qualsiasi tipo di segnale ecco noi ad esempio già lo stiamo facendo da 70-80 anni quindi di rilasciare nello spazio delle frequenze dei segnali radio modulati la nostra luminosità radio è appunto 70-80 anni quindi se ET è all'interno cosa che non penso di questa spera sarebbe già in grado di ascoltarci e noi vogliamo fare la stessa cosa ecco questo è il sistema giusto per curiosità che abbiamo messo a punto per il calcolo della KLT che è molto complesso perché ha a che fare con il calcolo matriciale bene ci sono enormi problemi di tempo di volo di un segnale radio oltre alla decodifica allora cosa voglio dire con questo immaginiamo un attimo che noi sappiamo che su Andromeda che è a circa due milioni di anni luce da noi circa ci abita ET bene noi andiamo a trasformare un radiotelescopio che è un ricevitore radiosensibilista lo trasformiamo in un potente trasmettitore radio bene puntando verso Andromeda con un messaggio del tipo che ha due milioni di anni un messaggio del tipo ehi là ET come stai bene questo breve messaggio nostro sta in volo due milioni di anni se poi ET è pronto a riceverlo ci capisce e ci ritrasmette la risposta dice ma insomma non c'è male altri due milioni di anni quindi la durata di un semplice colloquio come questo ci sarebbe 4 milioni di anni non è possibile comunicare quindi quello che possiamo fare è solo di verificare se esiste ET attraverso la ricezione di una sua trasmissione radio non è prevista nessuna risposta anche oltre al tempo anche perché non saremmo in grado di decodificare questo è un fax che arrivava dalla Cina a un professore cinese che ha lavorato con noi per due anni negli anni 90 e se uno non conosce il cinese assolutamente non è in grado di decodificarlo poi un'eventuale risposta implicherebbe tutta un'altra vasta tipologia di problemi cioè tipo chi deve decidere di trasmettere il nome di chi deve trasmettere cosa trasmettere chi paga cioè quindi tutta una serie di problematiche oltre a quelle che ci sono già per il tempo e per la decodifica bene una rapidissima occhiata tanto per mostrarvi quali sono gli ordini di grandezza delle distanze a cui con la nostra tecnologia noi possiamo arrivare vi ricordo che siamo all'interno di una galassia la via Latte che ha 100 milioni ha 100 mila anni luce di diametro bene considerando che ET usi un'antenna da 300 metri come l'antenna nostra terrestre di Arecibo e che usi un trasmettitore con 100 megawatt se noi prendiamo la frequenza di aridrogeno con la parabola di medicina arriveremmo a 476 anni luce ben poco mentre usando SRT sempre alla frequenza di aridrogeno arriveremo a quasi 1000 anni luce mentre se si va su in frequenza 8 giga e mezzo con la medicina si arriva a 3500 anni luce con SRT a poco più di 4000 anni luce siamo comunque ben al di sotto dei 100 mila anni che è il diametro della nostra galassia quindi noi speriamo solo che ET usi potenze ben maggiori dei 100 gigawatt e noi in un prossimo futuro se avremo modo di poter usare il nuovo radiotelescopio square kilometer array che costituzione in Sudafrica e in Australia per tutto il mondo è un consorzio mondiale avremo a quel punto sensibilità enormemente superiore se noi con i seti abbiamo forti ritorni sia tecnologici non sto a elencarvi perché vedo che il tempo è anche a livello di algoritmi di data processing per restazioni di deboli segnali da bande rumorose per il campo delle telecomunicazioni con la calibrazione di grandi array e altre bene concludo dicendo che la nostra galassia è probabilmente popolata da una miriade di civiltà più o meno avanzate nei nostri confronti il programma seti cerca di confermare attraverso la ricezione di un segnale radio o ottico di confermarne l'esistenza occorre anche se la probabilità di un successo è molto bassa occorre comunque cercare anche per le implicazioni culturali di cui vi parlerà Paolo con tutti i mezzi tecnologici che noi abbiamo a disposizione viste e termino le incommensurabili distanze tra i vari i vari pianeti che popolano la nostra galassia probabilmente sono milioni il reale rischio è che ciascuna civiltà spenda tutta la sua esistenza nella più assoluta solitudine perché siamo troppo lontani comunque noi ci proviamo e se riusciremo verremo a raccontarvela in un prossimo meeting bene grazie 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 steglio quindi non c'è nessuna possibilità di cominciare ad avere un dialogo con et dobbiamo accontentarci eventualmente di sapere che esiste questo sarebbe già una cosa a livello della rivoluzione copernicana tra l'altro un'altra cosa è che anche se ricevessimo un segnale magari la civiltà che ci spedisce questo segnale sarebbe già estinta perché le distanze sono tali che non possiamo saperlo quindi niente non riusciamo a parlare con et diamo allora la parola a paolo musso bene grazie dell'invito riduciamo al minimo i convenevoli perché il tempo è poco questo è il mio curriculum l'avete già visto ne ha già parlato Elio e dicevo riduciamo le cose al minimo perché indubbiamente se Steli ha un compito difficile il mio è quasi impossibile perché effettivamente è già difficile prevedere le conseguenze di ciò che conosciamo figuratevi di ciò che non conosciamo anche perché tra l'altro io qui non voglio fare un discorso pur legittimo fatto in termini diciamo filosofici generali come per esempio ha fatto ieri Costantino Esposito che va benissimo ma io sono un filorofo della scienza e quindi voglio parlarvi di solo a partire da ciò che sappiamo e siccome di questo apparentemente non sappiamo quasi nulla sembra davvero un'impresa disperata ciò nonostante come diceva Sherlock Holmes per una mente logica usando bene la nostra ragione anche da una sola goccia d'acqua si potrebbe dedurre moltissime cose e questo è un po' quello che io voglio cercare di fare oggi poi vi avverto che alla fine ci sarà una piccola sorpresa perché vi svelerò che cosa pensa di questo argomento il nostro Papa Emerito Benedetto XVI quindi stay tuned come si dice rimanete in ascolto fino alla fine ecco la mia goccia d'acqua da cui parto è una cosa banalissima cioè la constatazione che il SETI si fa con i radiotelescopi è in un raggio più o meno di mille anni luce come da quello che ha detto Stelio perché applicando è vero che si può un segnale intenzionale magari si può ricevere anche da più lontano ma da più lontano non ci arriverà perché non sanno ancora che noi siamo in grado di riceverli perché non hanno ricevuto le nostre trasmissioni quindi sarebbe come parlare un sordo non ha senso quindi su grandi distanze possiamo sperare solo di intercettare trasmissioni involontari con la KLT che è messa sul radiotelescopio SCA che si sta costruendo adesso che entrerà in funzione del 2030 secondo quel che ha detto Stelio quindi se è sbagliato la colpa è sua si può sperare di arrivare a circa mille anni luce di distanza quindi per il prossimo futuro ragionevolmente prevedibile questo è la distanza bene io da questo cercherò di ritrarre alcune conseguenze che sono forse un po' sorprendenti adesso vi stupirà un po' vedere quanto si può ricavare da questa base così apparentemente minima la prima conseguenza è che se dovessimo mai trovare una civiltà qualunque essa sia sarà certamente molto più antica avanzata della nostra e su questo molto torneremo presto perché innanzitutto in generale perché su scala cosmica noi siamo praticamente dei neonati questo viene spiegato bene nell'introduzione della mostra quindi non mi dilungo per cui qualunque altra civiltà è già molto probabile che sia più vecchia ma nel SETI questo diventa una certezza perché per definizione da quel che ha detto Steli avete capito stiamo appena adesso arrivando a avere la capacità quindi con una tecnologia inferiore alla nostra non si può comunicare deve essere almeno come la nostra ma siccome è pressoché impossibile che sia esattamente allo stesso livello evidentemente sarà necessariamente più avanzata e già questo non è banale secondo punto qualsiasi civiltà dovessimo scoprire non vorrebbe dire solo che ce n'è una ma che ce ne sono moltissime perché è già stato spiegato nell'introduzione della mostra che è come per i pianeti o la vita è molto rara oppure è molto comune o c'è un meccanismo che la produce sempre quando ci sono le condizioni oppure è casuale la via di mezzo sembra esclusa ora se noi scoprissimo una civiltà dentro questa sfera di 2000 anni luce di diametro che sembra tanto grande ma se riduciamo la nostra galassia e le sue dimensioni nell'universo questa sfera così enorme sparisce e diventa un puntino invisibile cioè a dire noi la vita intelligente almeno nel futuro ragionevolmente prevedibile la troveremo se la troveremo nel giardino di casa nostra e se la vita fosse molto rara trovarla per puro caso così vicino sarebbe così improbabile che praticamente possiamo considerarla impossibile quindi se la troveremo vuol dire 99,99% che è molto comune nell'universo il che pone tutta una serie di questioni anche perché terza conseguenza forse meno evidente e che mi dispiace dover dire perché io da bambino volevo fare l'astronauta ma se dovessimo scoprire un'altra civiltà potremmo quasi certamente dovremmo dire addio al sogno dei viaggi interstellari perché è una conseguenza del codiretto paradosso di Fermi annunciato nel 1950 dal grande scienziato italiano Enrico Fermi che un giorno se non uscì con una delle sue domande alla Fermi in cui condensava in poche parole una riflessione molto più complessa dicendo dove sono tutti quanti che voleva dire Fermi voleva dire possiamo esplicitare il paradosso in tre affermazioni primo e ti esiste secondo non è mai arrivato sulla terra e terzo i viaggi interstellari sono possibili il paradosso di Fermi sostiene che ognuna di queste affermazioni può essere vera ma non possono essere vere tutte e tre insieme quindi almeno una deve essere falsa questa cosa non piace in genere molto perché implica rinunciare o all'esistenza degli extraterrestri o ai viaggi interstellari si è tentato in tutti i modi di confutare il paradosso in questo libro sono elencate addirittura 50 soluzioni l'ho studiato molto a fondo posso garantirvi che nessuna è convincente in particolare quella che è più gettonata che viene in genere chiamata poco elegantemente ipotesi dell'ozoma in realtà dovrebbe essere chiamata ipotesi della prima direttiva di Star Trek perché è esattamente l'ipotesi che gli alieni in realtà siano qua in giro ma non ci osservano solo ma non ci contattano perché non vogliono interferire finché non raggiungiamo un sufficiente livello di sviluppo ma questo non tiene conto della immensità temporale del paradosso di Fermi qui non stiamo parlando di civiltà più antiche della nostra di migliaia o decine di migliaia di anni ma di decine di milioni forse addirittura centinaia di milioni di anni la vita sulla terra ci ha messo 4 miliardi di anni per produrre una civiltà intelligente basterebbe che su un altro pianeta l'evoluzione sia andata l'uno per cento più veloce e già avrebbe un anticipo di 40 milioni di anni 5 per cento più veloce 200 milioni di anni cioè a dire se fosse possibile colonizzare la galassia questi e soprattutto tenendo conto che le civiltà sarebbero molte verosimilmente non solo una magari qualcuno non ha voglia di farlo per ragioni sue ma almeno una che ci prova verosimile quindi avrebbe già dovuto colonizzare tutta la galassia quando qui non c'era nessuna civiltà umana da rispettare ma neanche le scime neanche forse i dinosauri però non ci sono e quindi cosa diceva Fermi siccome lui credeva ai viaggi interstellari ne concludeva che siccome gli alieni non sono arrivati sulla terra non esistono ma c'è un'altra possibilità e ovviamente se noi troviamo invece che esistono questa soluzione non vale più e apparentemente l'unica altra soluzione al paradosso è che non sono possibili viaggi interstellari il che ha delle conseguenze molto rilevanti sul modo in cui noi ci rapporteremmo a queste altre civiltà anzitutto niente scontri di civiltà e questa è una buona notizia le guerre stellari restano al cinema nessun pericolo di invasione eccetera ma anche verosimilmente nessun cambiamento epocale in senso positivo molti pensano con questa striscia di beetle by ne me lo pensano anche molti illustri scienziati del seti scopriamo gli alieni improvvisamente siamo tutti fratelli tenendo conto di quel che ha detto Stelio dei tempi che implicherebbe un diametro ma sai mica anche con Andromeda basta anche solo qualche centinaio di anni luce di distanza parliamo già di siccome il contatto diretto non è possibile si può solo dialogare via radio parliamo di secoli addirittura millenni è evidente che la gente dopo il primo entusiasmo iniziale si stuferebbe tornerebbe a farsi fatti propri quindi diciamo l'analogia più calzante del rapporto che noi potremmo avere con un'altra civiltà è più o meno quello che noi possiamo avere per esempio con la cultura greca antica con però un grosso problema quello di capirsi e in effetti capirsi con un alieno è molto difficile anche già io qui facevo le prove con questi piccoli alieni che ci piovono sempre in casa e questo è il mio nipotino quando era piccolo ovviamente è un'impresa molto difficile figuratevi con gli alieni veri ma anche se Stelio lui è sempre molto con i piedi per terra e questo è un grande merito però alla fine noi esseri umani siamo curiosi testardi ostinati a volte anche irragionevoli alla fine anche se è così difficile ci proviamo lo stesso anche perché il giorno che il segnale si scoprisse davvero comunque il problema rispondiamo o no e come si porrebbe inevitabilmente poi magari si decide di non farlo ma il problema è certo che si pone ora può sembrare un'impresa impossibile ma in effetti di nuovo tornando alla nostra goccia d'acqua di partenza noi abbiamo detto nel SETI noi comunichiamo per definizione con una civiltà che almeno è al nostro stesso livello tecnologico verosimilmente anche maggiore questo vuol dire che abbiamo a disposizione una specie di stelle di rosetta cosmica enorme la più grande dell'universo l'universo stesso è tutto quello che sappiamo di esso per questo si è tentato già da molto tempo di costruire qualche tipo di linguaggio basato essenzialmente sulla scienza che condivideremmo con gli alieni e qui questi molti di voi saranno familiari con la placca del Pioneer del disco d'oro del Weiger che sono stati i protagonisti della mostra Explorer qualche anno fa qui al Meeting voluti da Drake e Sagan ma questi erano puramente dimostrativi perché nessuno troverà mai queste piccole sonde disperse nell'universo già più realistico è stato il messaggio di Arecibo inviato da Frank Drake nel 74 che per quanto ancora molto rudimentale però come logica di fondo è rimasta la stessa cioè inviare una serie di bit segnali digitali che permettono di ricostruire come delle pagine proprio come i nostri computer in cui possiamo metterci qualunque cosa qui ci ha messo poco perché ma è solo un problema pratico evidentemente a tutt'oggi il miglior messaggio che sia stato mai fatto è quello inviato nel 99 dal radiotelescopio di Empatoria da i due astronomi canadesi Van Duttili e Stefan Dumas che purtroppo è morto due anni fa lasciandoci tutti oltre che tristi anche veramente sbalorditi perché era giovanissimo è stata una cosa totalmente inattesa e mi dispiace molto ma c'è va bene la scienza d'accordo ancora ancora ma comunicare anche la cultura beh questo sembra davvero troppo ma gli esseri umani eccetera e ci abbiamo provato a fare pure questo nel 2001 su Impulso del City Institute è stata avviata una serie di workshop on interstellar messa construction a cominciare dal congresso mondiale di astronautica di Tolosa dove sono stato invitato anch'io tra il gruppo di pseudo esperti dico pseudo esperti perché nessuno è realmente esperto di questo tema evidentemente è stata un'esperienza meravigliosa diretta da Doug Vakoc che era l'esperto del City Institute un psicologo lui nominato per questo è stato anche il mio primo impatto con il metodo americano del brainstorming che il primo impatto vi assicuro è scioccante ma poi però uno impara ad apprezzarlo purtroppo dopo due anni sono finiti i soldi anche per colpa dell'11 settembre e quindi questa cosa è un po' morta lì comunque il lavoro al di là del fatto di prepararsi eventualmente per rispondere è interessante in se stesso perché è una specie di esperimento mentale filosofico se volete così chiamarlo che ci permette di capire come dice la scritta anche sulle nostre magliette di capire meglio innanzitutto noi stessi e io stesso sono rimasto stupito quando studiando la cosa ho scoperto quanti filosofi anche illustri nella storia e anche in tempi molto più antichi hanno usato davvero questo come esperimento mentale per capire meglio la natura umana a cominciare da Kant per esempio solo per dirne uno e in effetti questo lavoro è stato molto interessante e qui non posso entrare nei dettagli vi dico se volete poi ne parliamo dopo ma vi dico solo la cosa che mi ha colpito di più e che c'entra di più con il nostro tema c'è una cosa che è venuta fuori che mentre sulla terra l'arte è certamente la forma di comunicazione più universale su scala cosmica invece è vero il contrario e la ragione non è poi così difficile da capire perché in effetti l'universalità dell'arte si basa sul fatto che l'arte ci parla soprattutto attraverso i sensi che sono comuni a tutta la specie umana quindi superano molto più non sono influenzati dalla cultura quindi superano molto più facilmente le barriere culturali che non le concezioni religiose filosofiche eccetera ma con una specie diversa quando anche fosse simile fisicamente è impossibile che abbia esattamente le nostre stesse percezioni se poi fosse molto diversa questo è un omaggio a Stelio ho rubato a lui queste immagini perché è un grande ammiratore di Megane Gay se fossero anche molto diversi fisicamente sarebbe ancora peggio quindi viene fuori questa cosa che è interessantissima anche per noi anche se non trovassimo mai degli alieni cioè che anche se per ragioni diciamo contingenti la ragione appare meno universale sulla terra come mezzo di comunicazione rispetto all'arte tutto ciò che parla attraverso la sensibilità per sua natura invece è più universale e vi dirò anche una cosa non è che lo dico perché siamo al meeting ma è vero i concetti che sono più facili o diciamo meno difficili da comunicare sono proprio quelli di tipo alcuni non tutti alcuni di tipo religioso metafisico in particolare proprio quelli del senso religioso di Don Giussani vi assicuro che è vero ultima cosa dopodiché passo a benedetto voglio sottolineare questo ci tengo che questo lavoro è stato possibile grazie al fatto che fin dall'inizio il settico miti dell'Accademia Internazionale di Astronautica che è il punto di riferimento mondiale per queste ricerche è stato concepito come un gruppo di studio interdisciplinare questo per volontà degli scienziati in particolare il SETI Institute in particolare a cominciare da Drake e Jill Tarter Sagan e Sashostak che mi piace citare anche perché a parte Sagan che è morto prima gli altri li ho conosciuti tutti anche se ci vediamo raramente li considerano non solo dei colleghi ma anche veramente degli amici sono delle persone veramente straordinarie che avevano chiaro la coscienza che questa sia una ricerca scientifica ma va al di là della scienza riguarda l'essere umano in quanto tale quindi hanno voluto loro che di questo gruppo facessero parte con pari dignità anche filosofi teologi artisti eccetera io sono membro dal 2004 del SETI Commiti e voto per esempio per eleggere il chairman esattamente il mio voto vale come quello di Frank Drake questo è veramente un caso unico credo nella storia della scienza che forse dovrebbe essere anche preso ad esempio certo non nella pratica comune ma in quei pochi casi però importantissimi in cui la scienza va a toccare le grandi domande di fondo dell'uomo e purtroppo quello che sta succedendo è che un po' anche a causa della crisi che sta attraversando il SETI Institute questo si rischia invece di perdere anche nel SETI Commiti e io all'insubria anche approfittando di alcune situazioni favorili sto un po' cercando di vedere se riusciamo a riprendere a farlo diventare un po' un punto di riferimento per recuperare proprio questo aspetto interdisciplinare anche grazie ai miei contatti appunto in Sud America soprattutto a Lima dove vado spesso la Ux l'Università di San Marcos l'Università Austral di Buenos Aires ma anche con l'appoggio dello stesso SETI Commiti dove comunque questa cosa ho detto un po' si sta perdendo ma non si è ancora persa del tutto e poi anche grazie al fatto che adesso attualmente il presidente Claudio Maccone che è un grande amico mio di Stelio ed è sensibile a questo aspetto un primo risultato c'è già stato ed è stato questo progetto che abbiamo sviluppato l'anno scorso proprio in Sud America nella Ux insieme a un'altra Università Cattolica di là finanziato dall'Università di Oxford e dalla Fondazione Templeton che aveva tra le altre cose il centro l'esperienza della sede amazzonica della Ux dove sono riusciti a sviluppare un caso quasi unico al mondo in cui gli studenti indigeni studiano la cultura occidentale ma studiano anche le loro tradizioni tanto che il Papa nel discorso di Puerto Maldonado Papa Francesco proprio l'ha portata ad esempio per tutti e ci interessa perché siccome non abbiamo mai trovato altra civiltà questo è l'unico esempio in cui possiamo in qualche modo almeno per analogia vedere cosa succede tra un incontro tra civiltà con un sviluppo tecnologico molto diverso in cui però le cose sono andate bene perché purtroppo gli altri esempi sono quasi tutti negativi allora noi abbiamo voluto studiare invece un esempio positivo e sono venute fuori moltissime cose interessanti poi gli abbiamo anche insegnato a vedere le stelle col telescopio qui ci sono io che aspetto pazientemente il mio turno loro in cambio ci hanno parlato delle loro cosmovisioni tradizionali il che non è banale però non lo fanno con tutti è stato un segno di grande fiducia e abbiamo già presentato alcuni risultati e speriamo di continuare se vi interessa nella home page della Ux trovate le registrazioni di tutti gli incontri e terminiamo con l'ultima parola che lasciamo a Papa Benedetto sulla questione religiosa questa è una foto di quando l'ho incontrato brevemente dopo questa lettera che mi ha mandato e l'ho potuto ringraziare quindi mi è particolarmente caro questo momento ringraziare la cosa più bella che si può fare nella vita e questa lettera che lui mi ha mandato è risposta a una in cui io gli chiedevo il suo parere su alcune questioni teologiche implicate in questo lavoro la prima cosa che mi ha colpito è che lui ha dimostrato di avere una coscienza chiarissima della serietà del problema al punto che l'ha paragonato addirittura a quello che è successo nel seicento con la rivoluzione astronomica di Galileo che plero e copernico e diceva che proprio per questo non è possibile in questo momento dare una risposta definitiva e completa questo è il testo la citazione del passo in cui dice questo quanto anche ad altre cose che gli avevo chiesto in particolare sull'interpretazione del peccato originale dell'origine del genere umano in questo contesto cosmico adesso non entro nei dettagli se me li chiedete dopo ma posso dire che anche qui ha dimostrato come sempre faceva lui un atteggiamento di grandissima apertura mentale sempre indicando qual è il valore che va salvato distinguendolo dalla forma esterna che può anche cambiare e a volte anche deve cambiare ma infine visto che vogliamo sapere questo cosa pensa proprio della possibilità dell'esistenza di altre civiltà lui è stato giustamente molto prudente ha detto non ha molto senso discutere dettagliatamente la cosa finché non abbiamo maggiori evidenze ma non ha detto che questa sia un'ipotesi non accettabile per il cristianino il che vuol dire che la ritiene accettabile altrimenti l'avrebbe detto sapete che Benedetto non si fa problemi a dire quello che pensa tant'è vero che poi invece ha detto molto chiaramente che però in ogni caso lui ritiene che la salvezza di Gesù Cristo abbia comunque una portata universale quindi sarebbe comunque valida per tutto l'universo il che non è poi così strano visto anche ieri qualcuno l'ha detto se pensiamo che anche Gesù sulla Terra non ha voluto nascere nel centro dell'impero romano galattico ha scelto uno dei posti più sfigati e periferici che ci fossero quindi non sarebbe neanche così strano che avesse scelto per manifestarsi a tutto l'universo uno dei pianeti più arretrati e periferici idea che piacerebbe anche ovviamente a Papa Francesco quindi finiamo in conclusione riassumiamo cosa si può dire certamente quello che dice Benedetto tenete presente questo comunque è molto autorevole ma non è una pronuncia del Magistero perché è una lettera privata e poi perché era già Papa Emerito ma è comunque certo un'opinione molto autorevole anche perché l'aveva maturata evidentemente già quando era Papa certamente molto coerente col metodo della preferenza che Dio segue anche sulla terra scegliere solo qualcuno e in genere appunto i più apparentemente sfigati e marginati per manifestarsi a tutti però sappiamo anche che la fantasia di Dio ci sorprende sempre va sempre al di là di ogni immaginazione anche qui sulla terra quindi alla fine non siamo non possiamo essere assolutamente certi di come stanno le cose ma di una cosa sì siamo certi che comunque noi abbiamo fatto l'esperienza di questa preferenza di Dio e se anche scoprissimo che Dio ha scelto altri modi di manifestarsi ad altre civiltà questo nulla ci toglierebbe così come nulla mi toglie anzi al contrario mi aggiunge il fatto che al mio incontro con Gesù non mi toglie nulla che altri l'abbiano avuto anzi lo rende più bello quindi questo spinge da cercare con grande fiducia sapendo che l'ultima parola comunque l'avrà sempre la realtà e la realtà è sempre nostra alleata come ci hanno insegnato da una parte il fondatore della scienza moderna cioè Galileo e dall'altra il fondatore del nostro movimento da cui è nato anche il meeting e cioè Don Luigi Giussani grazie a tutti grazie Paolo volevo ricordare che in quel famoso pranzo in cui Fermi ha detto dove sono c'erano anche Teller e Leo Zillard e Zillard ha detto una cosa divertente ha detto E.T. è già qui si chiamano Ungheresi una cosa prima di dare la parola al pubblico magari qualcuno è interessato a sapere se esiste ancora il progetto E.T. at home S.T. at home puoi dire qualche cosa magari su questo è acceso il mio va bene si va avanti anzi è stato potenziato per questo non è del S.T. Institute di Berkeley dell'Università di Berkeley che ha recentemente ricevuto un mega finanziamento di 100 milioni di dollari quindi le cose vanno avanti sicuramente Stelio vuole aggiungere qualcosa S.T. at home sta andando avanti anche se so che Berkeley sta facendo sta mettendo insieme un nuovo algoritmo di post elaborazione e quindi probabilmente la prossima versione del S.T. at home sarà più sofisticata della precedente ed è una buona idea di effettuare osservazioni S.T. sfruttando una rete di milioni di personal computer ovviamente sparsi in tutto il mondo è buonissima come idea abbiamo un po' di tempo per qualche domanda mi raccomando siano domande non micro interventi così possiamo accettarne di più c'è già una mano alzata due domande ma brevissime la prima mi sembra aver capito da Montebugnoli che la terra non sta trasmettendo un segnale diciamo coerente monocromatico o non l'ha mai fatto faccio anche la seconda così poi me ne vado la seconda è invece per Paolo Musso al di là della battuta di Zillard vorrei capire se esiste diciamo una riflessione sull'ipotesi che gli alieni ci siano e che siamo noi cioè che la nostra specie o civiltà sia in qualche modo introdotta dall'esterno rispetto a una condizione ambientale preesistente cioè se se questa è stata considerata come una possibile ipotesi di riflessione bene allora la prima domanda che cos'era la prima domanda si abbiamo trasmesso segnali chiedo scusa sì sono stati fatti molti cioè tentativi di trasmettere anzi non è stato un tentativo hanno trasmesso realmente da Arecibo negli anni settanta Fran Gray poi al settantanete di Eppatoria in Ucraina è stato fatto cioè è stata effettuata una trasmissione ad altissima potenza verso il piano galattico e insomma però ovviamente c'è il tempo di volo quindi non si sa se il target verso cui è stato inviato questo segnale radio insomma ad un certo punto ospiti una una civiltà in grado di rispondere comunque il grande problema è il tempo di volo a questo livello ma ha un certo valore perché noi possiamo sempre dire ecco vedete ai detratori del SETI come stiamo trasmettendo noi potrebbero trasmettere anche gli altri ma non è plausibile aspettarsi una risposta allora per quanto riguarda la seconda domanda sì questa è un'ipotetica è stata fatta la cosiddetta ipotetica della pasfermia in questo caso la pasfermia guidata cioè che qualche razza aliena abbia intenzionalmente inviato sonde per inseminare la vita su altri pianeti è un'ipotesi non c'è nessuna evidenza per questo personalmente faccio fatica a capire il senso di una cosa del genere comunque sì qualcuno l'ha anche immaginato però appunto non c'è nessuna evidenza per cui è un'ipotesi come un'altra ma la scienza come sappiamo però deve basarsi poi anche su fatti verificabili finché non si troverà un modo di verificare questo rimarrà appunto un'ipotesi così e anche io due domande una di carattere tecnico e una più filosofico quella di carattere tecnico lei ha speso il grosso insomma del suo tempo a parlare della ricerca in banda radio e questo mi è un po' stupito perché personalmente avrei cercato di costruire un segnale in banda X visto che nella galassia le sorgenti X sono più rare quindi diciamo sarebbe più facile attirare l'attenzione e invece la domanda di carattere fisiologico lei aveva accennato che aveva fatto posto delle domande a Benedetto XVI circa la sua posizione riguardo al peccato originale se poteva un po' come riesce a approfondire la questione ecco allora iniziereo con la domanda a livello tecnico sì quello che dice a livello di raggi X è vero però con osservatori basati a terra installati a terra le uniche finestre aperte dello spettro elettromagnetico sono quella radio e quella ottica noi se installassimo a terra un osservatorio a raggi X non poter ma questo tipo di osservazione lo si potrebbe fare con un osservatorio installato su un satellite fuori dall'atmosfera certo avrebbe un grossissimo senso dunque per quanto riguarda la questione della domanda Benedetto dunque quello che mi ha detto è che c'è una riflessione in corso di questo e che a suo parere dobbiamo ancora capire fino in fondo almeno alcuni aspetti certo la sostanza cioè che nell'essere umano c'è comunque una certa tendenza a fare come diceva San Paolo il male che non voglio invece del bene che voglio questo è un dato di esperienza quindi prima ancora che un dogma quindi è difficile da negare il problema è come intendere il rapporto di questo con tutto il tema della morte della corruzione eccetera perché se uno lo intende letteralmente come nella visione classica cioè proprio questo ha prodotto un'alterazione della stessa realtà fisica se poi ci sono altre specie intelligenti allora diventa un po' difficile capire perché non è mica detto che tutte ce la dovrebbero avere per forza quindi questo diventa molto problematico in realtà è già diventato problematico da quando sappiamo che noi siamo apparsi quando l'universo era già formato da molti miliardi di anni insomma quindi è questo aspetto che è attualmente in discussione come deve essere intesa questa cosa su questo lui non mi ha dato una risposta definitiva una di quelle cose su cui mi ha detto che non c'è una risposta che in questo momento gli sembri del tutto soddisfacente mi ha indicato una ipotesi che a lui piaceva ma comunque non giudicava ancora abbastanza cioè continuava ad avere aspetti problematici ma soprattutto mi ha detto mi ha invitato a continuare a andare avanti nella riflessione sul tema perché comunque lo ritiene molto importante quindi ancora una volta sempre questa cosa di da un lato distinguere il valore che non cambia e dall'altro quali sono diciamo il contesto la forma esterna che invece richiede evidentemente un'interpretazione ma la cosa che mi sembra davvero importante è soprattutto il fatto che lui riconosca che appunto questa è davvero una cosa su cui dobbiamo ancora lavorare grazie io volevo chiedere due domande uno quanti sono gli esopianeti scoperti fino ad oggi e quanti sono in attesa di conferma due volevo chiedere se ci sono dei progetti delle ipotesi di progetto concreti per l'invio di sonde verso uno di questi esopianeti eventualmente scoperti grazie sì allora i nuovi pianeti fino ad oggi cioè io ho il numero a febbraio circa ed erano 3500 non sono aggiornato sul numero attuale ma ci si ci si aspetta che nella galassia siano milioni e milioni ma attualmente siamo 3500 3600 magari con l'ultimo con il numero aggiornato ad oggi che io che io sappia di pianeti simili alla nostra terra ce n'è una piccola percentuale posso dire il nome di qualcuno che noi punteremo a metà settembre prossimo perché stiamo provando delle nuove apparecchietture di elaborazione dati e sono trappistuno che è a circa 40 anni luce e c'è l'altro Kepler 452B che però è a 1400 anni luce quindi noi lo punteremo perché tanto dobbiamo provare queste macchine però mi aspetto che la probabilità che si capi qualcosa sia estremamente bassa per quel che riguarda il progetto di invio di navicelle verso questi esopianeti al momento penso che non ci si stia neanche pensando per il costo uno e due per la distanza e quindi arriverebbero tra non so quante centinaia anzi migliaia di anni se parliamo di trappistuno che è 40 anni luce quindi che io sappia momentaneamente non è previsto questo magari in un futuro certamente perché no ci sono altre domande comunque se non c'è nient'altro vi invito in ogni modo a rimanere come si dice stay tuned rimanete collegati perché i prossimi anni saranno molto interessanti anche dal punto di vista del SETI non solo degli esopianeti con l'entrata in funzione dello SCA e spero anche più modestamente con questi progetti che stiamo cercando di mettere su a Varese se qualcuno poi ci vuole ulteriormente contattare siamo disponibili qui adesso nella mostra io anche nei prossimi giorni steglio solo oggi comunque grazie a tutti grazie ringraziamo i relatori